Obbligo di formazione e informazione. Questo è un aspetto focale per quanto riguarda il presidio della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Da questo punto di vista esiste già un quadro normativo estremamente regolamentato. Chi si occupa di sicurezza sa già di cosa parla, il famoso accordo Stato-Regioni del 21 dicembre del 2011 che a partire dall'anno dopo, dal 21 dicembre 2012, impone per tutte le aziende l'obbligo di definire dei piani informativi che riguardano tutti i lavoratori, i preposti e i dirigenti per la sicurezza. La formazione in materia di sicurezza, tradizionale, in una logica di smart working deve integrare, diciamo, contemplare anche il tema dello smart working. In sostanza nel contenitore della formazione è consigliato contemplare e integrare tutte quelle che sono le tipicità dello smart working. Quando si parla di formazione, se citiamo l'8108, cioè il testo unico della sicurezza, si parla di articolo 37, c'è sempre un obbligo di valutazione dell'efficacia formativa. Il suggerimento che mi sento di dare è contemplare attraverso degli strumenti di valutazione, che possono essere dei test, possono essere delle attività di audit, possono essere dei panel, nel processo di valutazione dell'apprendimento, anche il tema dello smart working, che non può essere trascurato. Formazione, articolo 37 dell'8108, valutazione dell'efficacia formativa. Informazione, altro elemento focale per quanto riguarda la tutela del lavoratore, quindi il presidio della sua salute e della sua sicurezza. Obbligo di informazione, articolo 36. Nel caso dell'obbligo informativo dell'articolo 36, dell'8108, si parla dell'informazione rispetto a tutti i fattori di rischio che riguardano l'ambiente di lavoro. Nel caso del smart working, in un contesto in cui il luogo di lavoro tradizionale subisce veramente un'evoluzione dal punto di vista culturale, bisogna considerare un'informativa che sia la più estesa possibile nel perimetro dei rischi a cui il lavoratore è esposto in funzione della mansione. Bene, la linea guida del linea da questo punto di vista parla di due ambienti di lavoro tradizionali su cui focalizzare l'obbligo informativo. Ambiente di lavoro outdoor, cioè fuori dalla porta, quindi all'esterno di un edificio, e ambiente di lavoro indoor. Vi suggerisco di andare ad approfondire, diciamo, nella sezione dedicata della dispensa formativa, quelle che sono le indicazioni che vengono dall'INAIL sugli obblighi di informazione e su come devono essere erogati. Un tema molto importante sull'obbligo informativo è quello che annualmente deve essere riproposto e deve richiamare tutte le possibili condizioni, tutti i possibili scenari a cui il lavoratore è esposto nell'attività svolta in smart working. Qui c'è un accenno su cui vale la pena porre attenzione. Il tema della, appunto, informativa rispetto all'indicazione INAIL, l'INAIL chiaramente dice che tutte le attività possono essere svolte in qualsiasi posto di lavoro, ma il posto di lavoro non deve esporre il lavoratore a un rischio aggiuntivo rispetto a quello che è tradizionalmente svolto in un ufficio, quindi in un posto di lavoro tradizionale da attesto unico della sicurezza. Un tema importante, diciamo, terminale per quanto riguarda l'applicazione, diciamo, della smart working in una veste, in un'ottica di presidio della salute e sicurezza sul lavoro è il monitoraggio e controllo. Nel caso della salute e sicurezza tradizionale, quindi l'81-08, questo obbligo è un obbligo di presidio del luogo fisico, del comportamento del lavoratore, di gestione dell'emergenza. Nell'applicazione dello smart working questo adempimento esce dal luogo tradizionale, per cui tutto quello che è fuori dall'adempimento proprio del datore di lavoro, e quindi mi concentro sul tema della strumentazione di lavoro, quindi videoterminali, pc, strumenti che vengono dati dall'attore di lavoro al lavoratore, deve essere presidiato in un modo nuovo, in un modo diverso da quello tradizionale. Da questo punto di vista ci viene in aiuto l'informazione di cui abbiamo parlato prima e la formazione. Per un monitoraggio e un controllo della salute e della sicurezza sul lavoro in un ambiente smart working, posso dare qualche suggerimento, check o test, sottoposti al lavoratore per verificare la propria prassi di lavoro e quindi verificare se la propria prassi di lavoro in ambiente di smart working è consona a quelli che sono i rischi presidiati dal datore di lavoro e quindi di fatto dall'organizzazione di prevenzione e di protezione della sicurezza, disciplinare rispetto alle regole da seguire, che di fatto in qualche modo definisca dei paletti fermi da tenere, come posso dire, sotto riferimento, in integrazione all'accordo scritto tra le parti, quindi tra datore di lavoro e lavoratore. Monitoraggio e controllo vuol dire anche presidiare la prevenzione e la gestione dell'emergenza. Da questo punto di vista, in un ambiente di smart working non è possibile, come posso dire, definire quelli che sono i set di prevenzione e gestione dell'emergenza, quindi estintori, quindi naspi, quindi piani di emergenza. Tutto quello che riguarda la prevenzione dell'emergenza deve cercare di entrare nell'ambiente dell'obbligo informativo e formativo per il lavoratore. Ricapitolando, quello che è importante tenere traccia nel presidio della salute e della sicurezza, in un ambiente di smart working, è, primo, la valutazione dei rischi. Dobbiamo considerare che comunque l'ambito dello smart working deve stare nel perimetro della valutazione dei rischi. Secondo punto, scheda mansione. Quando io parlo di valutazione dei rischi, parlo di mansioni di lavoro. Le mansioni di lavoro devono essere integrate, inglobate, tenendo conto anche del tema dello smart working. Questo vuol dire che in funzione dell'esposizione del rischio per mansione io non posso trascurare le valutazioni dei rischi e quindi anche le istruzioni operative di presidio dei fattori di rischio rilevanti. Formazione e informazione, elementi fondamentali. In particolar modo l'informazione è un elemento aggiuntivo che si deve integrare all'approccio tradizionale, 81-08, in materia di salute e sicurezza. E poi monitoraggio. Io devo prevedere dei controlli in una logica diversa da quella tradizionale che vada a presidiare l'attività svolta in smart working. Ringrazio per l'attenzione, arrivederci.